da dove usciamo? vieni qua dove dove sei? non ti ho perso dove sta la porta di ferro? ma anche io non ti ho perso ma c'è una ce ne sta io sono sulla ferrovia invece qua ok io continuo ad esplorare qui ti puoi esplorare dai abbiamo fatto tutto quello che ci dovevo fare sento stanno qui basta dai vale stanno i mob spawner qui e se vendessimo delle porte di ferro? vale cazzo stanno qui vale ti vedo stanno di... vai dietro che c'è dietro? fammi scavare sopra ecco ho paura io sono pronto ad uscire ti vedo però eh ah ma stanno sopra e qui? altri materiali vale è sulla tua sinistra poi e dai dai raccolgo questa arriva dai vai diritto ti dico dove andare aspetta io sto raccogliendo il ferro con aspetta ok abbiamo raccolto tutto direi che per oggi può passare... vale è sulla tua sinistra 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 eccolo eccolo stanno arrivando porca paletta cosa stanno arrivando? i zombie ma ve lo devi aperti no no stanno fuggendo ma vai vai continua dritto dritto attenzione armati che stanno arrivando cosa? gli zombie va dritto minchia quanti ne sono ma tu dove sei? non ti vedo minchia pure gli zombie corazzati no minchia quanti ne sono aiuto ma c'è i pokemon come fa? come fa? dove si sale? no non possono raggiungere fuga ah no ho staccato il pc con la porta con la porta mamma quanti ne sono vale dietro no mi stai mettendo l'anzia allucinante io me ne esco di qua va bene io fruto ho io te no ho tre sei sette zombie otto nove nove dieci o dieci zombie che cavolo aiuto poi si esce da qua è meglio che te ne fugge preparati un blocco dove stava la porta vai diritto diritto sulla tua sinistra diritto sulla tua sinistra qua ecco vai no ok scendi giù vai vai prosegui diritto ok vai diritto scendi sta scendendo no no dietro 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 devo scendere o devo sovrire no no dietro vai dove sta un corridoio stretto sulla tua sinistra vai oddio oddio che stai combinando aiuto quanti ne sono qua no dietro 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 ozzo ozzo vale verso sud vale verso sud sud minchia quanti ne sono cavolo sud 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 fai attenzione che te li trovi tutti addosso vai preparati stai combinando io ho tolto c'ho tutto in boppo di zombie stai combinando su qua sopra vai vi qua vale vale su qua su qua vai diritto adesso attenta aiuto stai registrando vero perché troverai un'orgia di zombie no la mia pala che devo fare devo scendere devi andare verso no w w ma vieni qua con me non posso ci sono tutti i zombie davanti che mi bloccano devo venire ad uccidere dai appunto aiutami vedi che sono parecchi cazzo mi ha fatto il danno come faccio la lumina te come faccio scendere da te adesso minchia si stanno attrezzando minchia mi stanno facendo danno ah ma sto morendo di fame aiutami ma qua c'è il mob spawner lo so è pieno è pieno ne sono tredici io sto ancora registrando io ne ho già registrando io ci sono uno dopo mezz'ora allora faccio le fai in modo che non possono entrare non ti possono picchiare aspetta quanti ne sono toppo verde aspetta 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 allora calma eh aiuto calma ho di nuovo se finisci con il cibo muoio ma tu dove io ho capito dove io ce l'ho lo spawner io penso che sia lo spawner io sono lì stanno di fronte vale attenta ok non c'è su ce la posso fare io ti vedo eh ti vedo sotto di me stai avvicinando io eh vale attenzione ho chiuso lo spawner l'hai trovato veramente l'hai trovato aiuto 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 sto morendo sto morendo esci esci da se esci da se sono morta vai a prendere la roba eh come ho 3000 zombie di fronte entro semmai sono entrata sono morta non ti preoccupare arriva 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 recupero mi sto lì recupero la roba il buco ci sta ancora lì che ne so no perché mi hai fatto andare ma tu perché ti sei andata lì devi uscire comunque l'ho chiuso il map sparence riesci a prendere la roba siamo a cavallo dai calma sti capperi calma io sto arrivando calma 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 non so manco dove sei morta mi è sceso un altro cosa mi è sceso un altro dove sto divertendo stai arrivando eh si perde tutti i materiali sti capperi eh da dove sei scesa tu non lo so è per questo vai tranquilla vai tranquilla io ce l'ho la testa io no io non so come arrivarci non so come arrivarci sto cercando della vita basta morite morite vai 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 ci facci non so dove hai fatto il buco sono sopra non ho fatto nessun buco ero sopra ti vedevo sotto di me quindi se vai lì mi trovi io non vedo nessun buco sopra di me non ci sono buchi ci devi salire tu ci devi andare devo scavare io ho chiuso il mob spawner lì c'è tutta la nostra roba minchia vanno i parkour dai dai ho finito tutte le zappe qual è il buco da dove sei entrata più o meno quello lì da dove sei scesa dove stava la porta la porta e qual è quel buco che hai fatto per scendere non lo so male io ho gli zoni ah no se mi dici dove sei scesa io scenderei e faccio prima no vale ne stanno scendendo altri andiamo a prendere la roba ti prego vai devi muoverti chi chiama chiama qualcuno no mi faccio a scendere dimmi dimmi vabbè io ti posso dire dove sono scesa c'ho trento o dici zombie di fronte qui da portare l oh eh oh calma aspetta dovrei riuscire a trovare per di qua dove hai fatto il buco dove hai fatto il buco ok c'è la linea posso farmi qualcosa ho trovato il buco ho trovato il buco quello che hai fatto ok ok attenzione che qui l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato hai trovato la roba no la roba no ma il buco si il bestancino la testa è a te quella lì la testa è a te ho muovi tutti con le spade non mi interessa proprio ok la mia morte è stata fatta qui ok come ho fatto a scendere il buco non lo so non lo so mi devi dare una mano però mi devi quello che fa tutto forte o qualcosa perché io non so come scenderci a più della roba aspetta ho fatto una spada dopo mezz'ora ce l'ho fatta per fare una spada ok dai no non me l'ha data ecco ecco ci sto vicino alla roba vai a prendere la roba non morire io li sento vicini vale ti vedo sono tutti lì sono tutti lì mi devi dare una mano morite animali di merda no si cazzo si cazzo ho recuperato tutta la roba forse devo averla recuperata sono morta ho recuperato tutto dove sei morta dove stanno tutti gli zombie tutta la calca aspetta devo mangiare tipo non l'ho recuperato porca in serie ma recupera dannazione dannazione perché 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 è tutto chiuso quanta roba qua una mela d'oro mi mangio la mela d'oro vai arrivo non recupero un cazzo con la mela d'oro magnifico no la sto recuperando la vita ok ok mi sto caricando sto diventando over power 9000 over over perché perché non mi so ok ho fatto tutto ho fatto tutto hai preso anche la mia roba la tua roba no sa dove sta la calca la tua roba non l'ho presa purtroppo la calca non so dove sta ma dovresti tornare tu dai arrivo arrivo non te ne andare resta a fiamma dove sei che ti vedo sopra e io scavo da sotto ok va arrivando altra gente dove escono sta gente se mi chiudessi qui chiudi ti fai qualcosa non morire per morire non muoio così sono morta perché prima me ne sono arrivati troppo me ne sono arrivati addosso quanti me ne erano tantissimi non ho fatto in tempo a contarlo lo sposto alimentario dai ma sti pochino non sapono un cappero dovrebbero poterci invece ci lasciano morire dai dai recuperiamo la roba arrivo arrivo allora ma le torce che fine hanno fatto avevo tipo non so che torce nella borsa tu ce l'hai la borsa almeno io ce l'ho quella cosa più importante che era la borsa l'ho recuperata ecco qui ma tu non è uscito un altro ti faccio il culo ti faccio ok dove è la roba tua più o meno spiegami dove stava la porta di ferro mi vedi sopra ecco lì sotto segui 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 il mio punto sto ritornando da qui non so come raggiungere il tuo punto scava non lo so non lo so non lo so non lo so scava il cacchio scava sto scavando a mani nude per farti capire la roccia non ti vedo ecco ti vedo stai scendendo sotto sotto qui quindi sotto qui da me sotto lo spawner sotto dove sono morta 42 metri lo faccio a raggiungere sotto la tua roba scavare se arrivi proprio sotto la mia testa io là trovi la mia roba non ti vedo la tua testa guarda sopra ah qui sono sul punto preciso no un po' più non lo so sto scavando la roccia a mani nude dimmi dove è la roba dimmi più o meno ha 32 metri da me aspetta ti dico le coordinate 811 e meno 319 l'altezza è 55 e meno 30 811 no c'è gente qui non posso neanche qua eh lì sta lì sono morta dai anzi 36 metri dai veloce prima che si dispone la roba eh faccio un cuba a minuto dai dai ti stai allontanando eh io non so come prendere però che l'attento si sta avvicinando ok dove sono è scesa mancano altri 39 metri ah 31 metri non 39 dai dai ma perché c'è non le tue robe questi c'è non le tue cose no uccidiamo le mie robe se le so prese quei lati di merda ok 29 metri ti vedo vale sei sotto me sei sotto me ma da dove escono sono spawnati tutti adesso erano quelli mie che mi stavano facendo compagnia ok bene interessante fa piacere sentirli è vero piacevolissimo guarda dove è lo zainetto io non avevo uno zainetto tu l'hai preso lo zainetto no si 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 vediamo ste cose toni questo per un'altra sera dai dici dimmi più o meno dai sto venti sotto ferma ferma vai dietro un po' più dietro ok vai più dietro ok ci sei quasi e mi dimmi più avanti oh più avanti c'è uno zombie ok ferma sei qui è qui qui devo scavare cavo mancano 23 metri dove sta dalla porta di ferro appena vedi dove sta dove c'è un po' di spesa ci sono io quella è quella un po' più dietro un po' verso sud verso sud mi ne è spawnato un altro vai attendo è spawnato uno zombie non sono fatto a spawnare ma cazzo vai a spawnare è rotto pure la spada devo fare una spada ti ho sentito cazzarola 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 fatela cazzarola ma rompi lo spawn no lo spawn non lo rompo ci può servire sempre metti la te torce metti qualcosa non ne ho più torce fattele dove sta la mia ok mi vedi io ti vedo adesso no te l'ho fatta tutta una mani nude dai ti aiuto vai aiutami bravo ecco ecco dove è la roba qui no sotto 16 metri sotto ok io comincio a scavare scava sotto non cadere non cadere se no cazzo ah ok sotto sotto dove 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 io sto scavando qui sotto vai continui a scavare e poi mi trovi il buco attento attento che ci sono gli zombie ah li sento ok 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 visto c'è la mia roba ti prego me la son presa vale vale minchia vale aiuto 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 no è colpa è colpa è colpa mia no ma mi devo fare di nuovo tutto a pie mani nude è mia roba mi si è preso un piccone adesso come faccio ad ucciderli tutti c'era una spada lì in mezzo trovala madonna quanta gente madonna quanta quanta gente sono morta di nuovo quanta gente quanta gente la patata ma le patate ci servono ma siamo in hardcore dimmi la verità siamo in hardcore no le torce chi ha spento la luce non io non ci vedo più dov'è la tua roba non riesco a trovarla come Gesù è spawnata dove stanno tutti i zombie ma dopo questo quanto me leva è impossibile perché avevo un sacco di cubi ok sono qua io la roba forse non posso prenderla perché sono piena esatto io non c'avevo troppo roba importante nel senso che avevo soltanto cubetti è un po' di ferro cubetti per la palestra futura o qualche una costruzione aspetta allora io la roba qui non la vedo mi spiace aspetta arrivo sta soffriando i zombie eh no è impossibile dai io sono scesa giusto qui come hai detto tu rimanilla era lì che sono morta ho capito ma qui la roba non ci sta aspetta che arrivo aspetta tranquilli si muove e continua a prendere la roba chi si muove fermo è crashato il server perché no vedo gli zombie muoversi cioè gli animali no gli zombie sono fermi si è crashato il server perfetto allora ho perso la mia roba grande riusciremo a recuperare la roba di francesca aspetta che arrivo non chiudere non ci vediamo il server è crashato se arrivi tu ecco dicevo tu sei crashata non io io ci sono vabbè riusciremo a recuperare la roba di francesca lo scopriremo perciò perciò perciò